Parabola discendente per l'Oman Desert Marathon lunga 165 km con temperature che hanno toccato i 40 gradi all'ombra, davvero inusuali per il periodo. La competizione si terrà sino al 24 novembre nell'est del Sultanato dell'Oman per concludersi sulle rive del Mar Arabico. Sei diverse prospettive di uno dei più bei deserti al mondo in uno scenario che non conosce la monotonia. Il suggestivo viaggio vede partecipare pure atleti italiani, circa 100 i corridori in totale, in rappresentanza di una quindicina di nazioni. Tutto pronto intanto per la maratona notturna di 42 km con i fratelli marocchini Rashid e Mohamed e il Murabiti che proveranno a confermarsi i protagonisti.